Pronto? Pronto signora? Signora pronto? Benvenuti, buongiorno signori Oggi vediamo come capire quali software e non software si collegano ad internet senza che noi gli chiediamo qualche cosa Di che cosa sto parlando? Sì, sì, proprio di questo, della rubrica su come velocizzare il nostro internet Se non sapete di che cosa sto parlando, abbrutti cornuti, andate immediatamente sul mio canale, andate a vedere le playlist Maledetti cornuti Ora, lasciando questo, andiamo subito a vedere il software che ci farà capire che cosa, chi e che cosa software Chi e che cosa software, che bell'italiana di merda che ho sparato Si collega ad internet senza che gli chiediamo il permesso O gli abbiamo detto di collegarsi ad internet ma è sempre perennemente collegato e ci fotte ogni volta la linea Di che cosa sto parlando? Di questo software Networks Free band Maledizione Free band which monitoring Allora, di che cosa si tratta questo bellissimo e stupendo software? Ce ne sono tanti software che monitorano la nostra rete e i nostri servizi collegati alla rete Ma ce ne sono veramente pochi, così funzionali, così buoni e soprattutto così tanto in italiano come piace a noi Allora, che facciamo? Una volta che voi cliccate sul link che avete in descrizione E andate in... dove cazzo siamo? Ah sì, scusate, una volta il link in descrizione Cliccate sul primo download, cioè il network install Network works, cazzo si dice Lo scaricate, una volta scaricate lo installate Vi faccio vedere com'è il procedimento Tanto facilissimo Tanto bellissimo Una volta che abbiamo... ecco qua Una volta fatto questo Maledizione con questi software Una volta fatto questo Quelli sono tipo... scarica il software aggiuntivo nostro Nooo, cazzo Continuiamo avanti con la nostra lingua Monitora tutte le connessioni Controlla gli aggiornamenti automaticamente Io clicco su no, perché Quando voi cliccate su controlla... controlla automaticamente gli aggiornamenti Vuol dire altro che voi lasciate una piccola traccia A un piccolissimo processo Che è costantemente collegata ad internet Oppure ogni tot di tempo Che monitora e controlla se sono uscite nuove versioni Non comporta un granché di risorse Sia a livello, diciamo, di prestazioni di computer Ma dal livello di banda Però visto che sono software che devono fare questo lavoro Non c'è bisogno che si aggiorni continuamente Io alcuni software non li aggiorno perché Se fanno il loro lavoro Lo fanno perennemente Perciò non c'è bisogno di avere la nuova versione Perché è meglio Deve fare il suo lavoro e basta Se poi nelle versioni nuove che è meglio Hanno implementato delle nuove caratteristiche Se no io consiglio sempre di lasciare determinate Vi faccio l'esempio Io tuttora dell'Adobe Photoshop uso... mi trovo benissimo con il CS3 Non con il CS6 Con gli altri software di Adobe Tipo il montaggio video Uso Premiere CS5 Ma non vedo il perché Sia migliore il CS6 Ha nuove funzioni Comunque non lasciamo stare Le mie personalissime considerazioni Sui software e sui loro aggiornamenti Oh se lo volete sempre aggiornato Mettete questo aggiornamento punto e basta Io lo faccio per ticchieria Che non voglio che ci siano altre cose Che collegate ad internet Ora una volta fatto questo Noterete un'icona qui in alto a destra Sarà perennemente e sarà sempre E si avvierà automaticamente con l'avvio di Windows Adesso noterete Ecco per un attimo avete notato zero Ma poi appaiono i nostri dati Questo è un report Su il consumo che abbiamo Giornaliero, settimanale, mensile, eccetera eccetera In base secondo delle statistiche Questo lo consiglio pure per chi Naviga con pennette E chi ha i limiti Non in ore ma in mega Comunque non è di questo Che volevo parlare Cioè io ve lo sto illustrando Un'altra cosa che vorrei precisare Questo software Se non erro Se non erro Che infatti non me l'ha chiesto da nessuna parte Comunque il software è gratuito Gratise Ora andiamo a vedere Nello specifico Proprio la spiegazione Il tutorial di oggi Qui abbiamo visto il report Se clicchiamo con il tasto destro Sempre su questa iconina Possiamo vedere Sia dei vari report Fare anche un ping Direttamente Vedere che ping abbiamo Direttamente a un indirizzo Ma quello che interessa a noi È cliccare con il tasto destro E fare su Netstat Ecco qui Questi qua non sono altro Che i processi Perennemente collegati Ad internet E alcuni di loro Anzi diciamo che tutti Consumano una parte Della banda su internet Ora come vedete qui Ci sono Perché per come sono io Molto pignolo Su alcune cose Ci sono solo ed esclusivamente I servizi Che sono Che in automatico Partono con l'avvio di Windows E sono quelli perennemente Accesi Vi faccio l'esempio Come free download manager Ne ho parlato Nella Mi pare Seconda o terza puntata Diciamo così Video che ho pubblicato Nella mia playlist Che sono tra i software Indispensabili Per esempio Lui lo voglio Per esempio Perennemente acceso Perché se devo scaricare Un file Voglio che lo scarica Con free download manager Un altro software Per esempio Che c'è Continuamente Attaccato È per esempio Il team weaver Team weaver Io lo uso spesso Per quanto riguarda Il desktop E le connessioni In remoto Perché se sono fuori In giro con il mio portatile E devo usare Uno dei miei computer Di caso Lo posso fare tranquillamente Con questo software Perciò voglio Che in ogni mio computer Sia sempre attivo Team weaver Però a discapito Che team weaver Anche in questo momento Sta consumando Una leggerissima Porzione di banda Ma leggerissima Questi sono software Tranquillissimi E leggerissimi Ora Però vi sto spiegando Come tenere d'occhio Tutti i processi E solo i processi Che Identificano Processi E programmi Che sono perennemente Costantemente Collegati alla rete Perciò Come vi sto facendo Io l'esempio Questi sono software Che io li voglio Perennemente Accessi Perché mi servono Ora Altra Cosa Ve lo faccio vedere Con google Per Se noi chissiamo Aggiorna automaticamente Noi automaticamente Ecco il software Automaticamente Controlla Automaticamente Quali software Si sono collegati Ad internet In questo caso Eccolo qua Vediamo chrome Un'altra cosa Che voi mi domanderete O domandereste O domanderebbe O non lo so Vaffanculo Con i verbi Che cos'è E perché Apre Più Cose Per esempio Di google Di free download manager E di team weaver Tutto il resto Che vedete Sono processi Di internet Che servono Proprio Esplicitamente Penso che si può dire Alla nostra Connessione Perciò Evitare Di toccare Questi Se non sapete Di che cosa Si sta parlando Per esempio Voi adesso L'adoperete Sul vostro computer Troverete Un software Che Diciamo che Non è tra le vostre grazie Non sapete Di che cosa si tratta E' semplicissimo Basta Segnarsi il suo nome Copia in terra riga Oppure Segnarsi solo il nome Teamweaver Lo scrivete Su google E scoprirete Di che cosa si tratta Perciò Potrete capire Automaticamente Se deve essere Un processo Attivo Perennemente Anche su internet O non Vi faccio l'esempio Un lettore player Che è utile Per vedere Filmati In streaming Online E cacao web Anche molto criticato Cacao web Cacao web E' uno di quelli Che non si attiva Quando devi andare a vedere Con il suo web player Il filmato Ma è attivo Perennemente Da quando si avvia Windows Quello è uno Che mi fa girare le palle Perché non lo voglio Che sia attivo Da quando accendo Windows Ma solo da quando voglio vedere Un filmato Tramite cacao web Ci siamo capiti Perciò Ora Perché le vediamo Duplicati Perché Questi sono Gli indirizzi remoti Che servono Per ogni cosa Ma ugualmente Se voi Basta che cliccate su uno Cliccate con il tasto destra E fate Termina applicazione Automaticamente Chiude Non solo Da parte di quell'indirizzo remoto Ma Tutto quanto Il software Come se Come se voi fate Termina Termina processo Dal nostro test manager La stessa cosa Facciamo l'esempio Con TeamWeaver Io clicco Con il tasto destro Su una Qualsiasi cosa Termino operazione Lui ha terminato Completamente TeamWeaver Lasciando stare Le cartelle apposite Lo possiamo fare A parte Ecco qui Perciò Questo è un buon consiglio Su come Chiudere I processi Che noi non vogliamo E potete anche Capirlo In questa maniera Che processo Chiudere o no Non solo perché Vi mostra L'icona Vi mostra Il nome del software Vi mostra Che tipo di protocollo Usa L'indirizzo Perché In alcuni casi Noterete Un indirizzo Con scritto Solo 190 Ecco Qui in questo caso Non c'è 192.168.1.1 Eccoli qua Sono quelli In poche parole Della vostra rete Queste non dovete Chiuderli Questo non è La rete internet Ma è la rete Quella che è collegati Il vostro modem router E non dovete chiuderlo Vi faccio l'esempio Di questo Comunque Io vi ho spiegato Penso In una maniera Abbastanza dettagliata Questo software Molto buono Molto utile Che io lo consiglio Tanto Su come chiudere I processi Che collegano ad internet Perché Dico tutto questo Perché Se noi abbiamo Troppi processi Che collegano ad internet E noi nemmeno Li stiamo usando È normale Che noi ci mettiamo Tanto tempo Per scaricare un file Caricare un file Vederci un video Su youtube Vedersi i video Del nostro caro Vicious17 Che è tanto bello E figo E intelligente Qui ho sparato La mega cazzata Ecco qui Qual è il motivo Signori Vi ringrazio ancora Per il tempo Che mi avete dedicato Vi raccomando Seguite le mie video Le mie video Le mie playlist E i miei video E vi raccomando Gridate su questo video E se avete capito Tutto Ti saluto Pedifico